Roberto Saviano, stavamo dicendo che è impossibile definire Diego Armando Maradona perché per ciascuno ha rappresentato qualcosa, perché proprio come la musica è legata, ciascuno lega un proprio ricordo, un proprio vissuto e questa sera ascoltiamo il tuo, con grande piacere. Roberto Saviano. Grazie. È impossibile per i non napoletani capire cosa sia stato Maradona per Napoli. Quella tra Maradona e Napoli era un'alleanza naturale, un ritrovarsi, un insieme di generosità totale e furbizia, istinto e calcolo. Quando nel luglio del 1984 giunsi a Napoli per la prima volta, Maradona era un ragazzo di 24 anni che arrivava dal Barcellona con un'aura di giocatore finito, perché il difensore dell'Atletic Bilbao, Goi Gocea, gli aveva spezzato una caviglia con un'entrata violenta. In più, il suo carattere era considerato ingestibile. Il Napoli fu l'unica squadra italiana a fargli un'offerta. E le altre squadre? Sapete perché furono diffidenti? Erano convinte, anche la Juve di Boniperti, che un calciatore con un fisico come il suo, basso, tozzo, non potesse andare da nessuna parte nel calcio moderno. Maradona era rotto, affamato e inquieto, quindi perfetto per Napoli. Quando fu presentato ai tifosi, il San Paolo era pieno, come se ci fosse una finale di Coppa del Mondo. 70.000 spettatori e oltre, accorsi solo per vedere il nuovo giocatore argentino fare due palleggi. Non era mai successo una cosa del genere e mai sarebbe più successo. Maradona si trova catapultato in un luogo dove l'umore di milioni di persone dipende da lui. Io sono del 79, ero bambino quando lui giocava nel Napoli. E la prima volta che ho visto mio padre piangere dalla gioia è stato per Maradona. In quegli anni il campionato era dominato dalla potenza calcistica delle squadre del nord, dalla Juve di Agnelli, poi del nuovo Milan di Berlusconi. Napoli era una città in ginocchio appena uscita dal terremoto dell'80. Pensate che il campo in cui il Napoli si allenava soccavo, Maradona lo descrisse come più simile a quello di una società argentina di seconda divisione che non a quello di un club europeo. Ecco, in questa situazione Diego dava la possibilità a intere generazioni di credere di poter cambiare le cose puntando solo sul proprio talento. Ha incarnato il riscatto per i napoletani perché una squadra del sud non aveva mai vinto uno scudetto, con lui ne vinse due, quasi tre. Una squadra del sud non aveva mai vinto una Coppa UEFA, una squadra del sud non era mai stata al centro dell'attenzione mondiale per anni. Nell'86 a Torino Maradona compì la vendetta che i napoletani aspettavano da una vita. 3 a 1 contro la Juventus. Tutti gli operai campani che lavoravano al nord sentivano che la squadra in quel momento interpretava la loro voglia di rivincita contro il razzismo che subivano. Maradona era finalmente qualcosa che non ti faceva sentire sconfitto, inefficiente, come ci si sente quando si nasce in una delle zone più difficili del sud Italia. Ecco col pallone Diego ti faceva dimenticare tutta la schifezza di vita che si faceva al sud, ti dava la possibilità di trascendere la tua miseria quotidiana. Si era accorto subito Maradona che quella dei napoletani non era solo una battaglia calcistica. Quando debutò in Verona Napoli, era il 16 settembre del 1984, sugli spalti scaligeri notò un enorme striscione rivolto agli avversari partenopei che recitava Benvenuti in Italia. In trasferta il tenore dei cori che accoglievano i napoletani era sempre Lavatevi, Napoli colera, non siete italiani. Maradona era rimasto sconvolto. Le vittorie del Napoli con lui furono la rivincita del sud sul nord. Dimostravano che non vinceva sempre chi aveva più soldi, chi aveva più potere, ma chi lottava di più, chi era più bravo. Maradona divenne la compensazione per tutto quello che Napoli non aveva mai avuto. Bisogna capire che lui era quello che manteneva una promessa di felicità che tutti invece in quel territorio avevano tradito. Lo Stato aveva tradito, la politica aveva tradito, gli imprenditori avevano tradito questa promessa. Non lui. Diego era lì, non tradiva, non cambia mai maglia. Soprattutto decide di non indossare mai quella della Juventus. Dopo il primo scudetto con il Napoli sarebbe potuto andare ovunque. Berlusconi gli aveva offerto il doppio di quello che guadagnava a Napoli, ma Diego rimase. E i napoletani gli furono riconoscenti. Mondiali Italia 90. La nostra nazionale finì in semifinale contro l'Argentina e un destino terribile voleva che la partita fosse disputata proprio allo Stadio San Paolo. Avevo 11 anni ed ero lì. All'inizio la situazione sembrava normale. Tutti avevano bandiere tricolore, sciarpe dell'Italia, le facce dipinte. All'epoca ci si dipingeva con la vernice. Bianco, rosso, verde. Quando al diciottesimo Schillà ci segna l'1-0, tutti scoppiamo in una grande felicità. Al sessantottesimo l'Argentina pareggia e il tifo non napoletano inizia a prendersela con Maradona. Lo fischiano, lo insultano, ogni volta che tocca la palla gli danno addosso. E lì accade qualcosa di incredibile. Per un attimo la curva del San Paolo smise di tifare. Silenzio, come se stesse prendendo respiro. Poi si sentì solo Diego, Diego. Iniziamo tutti a tifare per Maradona. In quel momento la patria, la terra in cui ti senti accolto, difeso, in cui ti senti a casa, era Diego. Più di una nazionale di giocatori provenienti da altri club, Juve, Inter, Milan. Non c'entravano più i confini geografici, non la maglietta o la lingua. Solo il fatto che ti identificavi nell'uomo che ti aveva fatto gioire, che ti aveva fatto vincere e che l'aveva fatto anche con correttezza. Perché Diego, per quanto fosse un uomo vicinissimo a personaggi corrotti, ad ambienti terribili, in campo manteneva la regola del piacere e della lealtà del gioco. Sì, certo. C'è stato il gol della mano di Dios durante Argentina e Inghilterra, Messico 86. Quello è visto come una grande scorrettezza sportiva, ma lo spiegò come un gesto politico. La sua risposta alla vittoria inglese nella guerra delle Falkland di qualche anno prima. Fu dileggiato, anche per quel colpo di mano, ma era come dire, non potevo certo perdermi quel gol per qualche centimetro che Dio non mi ha dato. Ma in quella stessa partita, Diego riuscì a far dimenticare la furberia della mano, mostrando il suo genio nel secondo gol, che è stato definito il gol del secolo. Lo avrete visto centinaia di volte. Maradona parte dalla metà campo, avversaria, scarte in un'unica corsa due centrocampisti, poi accelera verso l'area di rigore, uno a uno salta agli avversari. Ma proviamo a riguardarlo, però vi chiedo, concentriamoci non sulle immagini, ma sull'audio. Ascoltate la voce del telecronista argentino. Avete sentito? Ta, 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 ta. L'azione è così veloce che impedisce persino al cronista di pronunciare i nomi dei difensori che sta scartando. In questa azione, tra l'altro, si vede bene quanto Maradona rispettasse il gioco del calcio. Poteva fare come spesso fanno gli attaccanti, farsi atterrare, buttarsi a terra, prendere una posizione, un rigore, ammunizione altrui. Lui gioca sempre invece, non cerca il fallo facile. Le difese lo massacravano, ma lui cercava di non cadere mai. Voleva concludere l'azione. In campo era disciplinatissimo, lui che era indisciplinato ovunque. Maradona fu imperdonabile nel suo cebere alle frequentazioni di boss trafficanti, i suoi agenti ambigui, partecipando alle feste dei camorristi e poi i suoi guai col fisco italiano, ma era anche un uomo solo. Ha vissuto la solitudine degli esseri umani di talento. Tutti che chiedevano cose, cose, le richieste di solde, di appoggio, di raccomandazioni. Un ragazzo nato in un poverissimo barrio di Buenos Aires, con pochi strumenti culturali, non poteva che restare schiacciato. Il gossip cercava qualsiasi informazione su di lui, gli assediava casa, la vita privata. La cavorra ne comprese subito le debolezze, gli forniva la coca, cercava di tenerlo sotto estorsione. Tutto quello che era fuori dal campo lo potevi ottenere grazie alla mediazione, con i compromessi, ma in campo no. Diego non negoziava con nessuno. Ha sempre odiato, per esempio, il potere politico, calcistico, Blatter, Matarrese. Da animo ribelle qual era, è sempre stato in lotta contro i politici del calcio, contro chi voleva gestire il calcio con gli accordi, con gli scambi, con i favori. E non perché fosse un uomo giusto, ma perché lui stava solo dalla parte del pallone. Diego non va visto nei gol che ha fatto, ma soprattutto nei gol che ha fatto fare. Questo era il godimento del vedere Diego. La sua magia era far sognare tutti e far pensare a tutti che il sogno si può realizzare. In questi giorni molti mi chiedono cosa abbia significato Diego Armando Maradona per me. Davvero difficile da spiegare. La risposta più istintiva che possa dare è in questa foto. Cioè, Diego è stata la mia infanzia. Gran parte dei momenti felici passati con mio padre li devo a lui. Maradona per me sarà sempre la gioia negli occhi di un bambino che indossava la maglia del calciatore più forte del mondo. Grazie Diego. Grazie. 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 Grazie Roberto.